Nella cornice di Palazzo Binelli è stata presentata la 28esima edizione del concorso Tesi per Carrara, promosso da Lega Ambiente Carrara PS in partnership col Comune di Carrara e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Sostenuto con grande convenzione dal Comune di Carrara perché è qualcosa di importante, che mette l'attenzione su Carrara, sull'ambiente e sui giovani, che è giusto che siano protagonisti delle scelte future e che abbiano quindi riscontro di fonte e idee di successo che possono portarci. Il concorso premia tesi di laurea su argomenti riguardanti il territorio, la storia, l'economia e i beni culturali di Carrara o il suo comprensorio. E devo dire che da quell'esperienza sono venuti fuori lavori scientifici in tutti i campi di altissimo livello che a volte sono anche riferimenti per studiosi e per lavori professionali. La grande novità di quest'anno è l'introduzione della sezione riservata agli studenti residenti del Comune di Carrara che ha come oggetto lo studio e l'approfondimento di tematiche relative all'ambiente e alla transizione ecologica. Diciamo che quest'anno si è arricchito anche, di solito erano tesi che avevano argomento, la città di Carrara e il suo territorio. Adesso abbiamo inserito una nuova sezione che è quella appunto che riguarda tesi fatte da giovani di Carrara che abbiano studiato argomenti di carattere ambientale. Gli autori delle tesi vincitrici e i secondi classificati nelle due sezioni del concorso riceveranno ciascuno un premio in denaro. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata a info.legambientecarrara.it entro il 31 maggio 2024. Grazie 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 Grazie